ma quant'è bella cazzo non puoi capire quello che sta succedendo il delirio hai visto dove ti ho portato? si dove mi hai portato non capisco io domani ti voglio qui mi raccomando a me in queste condizioni pessime che ti vergogno è il pubblico che ti muore il teatro a me il pubblico il teatro anche là ci sono i carabinieri i carabinieri però sai che ti dico che questa faccia si proprio questa faccia non morirà mai io non morirò mai arrivo non ho fatto peggio e che? Ti aggirò, a vista mio padre E' un'altra cosa? Cosa sto chiedendo? A morire, vai A morire La donna immobile sul letto stava col ditone Ah, 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 ma su cicci, è un po' stesso Ma che bollere è mia? Il tempo non passa mai Ma tu non sei tono E secondo voi chi è che vi chiamava per noi? A me ne cavo, vado a abbracciare Eh sì, povera femmina Perché mi dico, è successo qualcosa? Ma no, no, niente Vai, vai, che ho mangiato di aspettare Carabinieri Carabinieri, ma cosa volete da noi? Mamma, sono io, Tony Tony Tony, gioia mia Ma non mi hai riconosciuto, guarda, sono un carabinieri Vero Dimmi la verità È stato lui, vero? Io fai gli sberronnai Tony, Tony Non un po' di fretta Avanti Con il tempo ci sono le persone che aspettava Li faccio entrare, grazie Prego Adesso Buongiorno 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 Allora cominciamo ragazzi Da questo momento Siete comandati scelti per una di queste missioni E in quanto segreta Avrete un pezzo fuori dal vostro stipendio Pari a 5 milioni di riflessioni È diritto Signor colonnello 5 milioni Sono tanti Potremmo un po' sapere magari qualcosa in più Ma non sarebbe bene sapere cosa ci sta dentro con la valigetta Ma Morandi Lei sa seguire un ordine? Sì o no? Scusi Io vi ho già detto tutto Il resto È scritto Dentro questa bussa Buona fortuna Arrivederci Arrivederci il signor colonnello Sì sì tutto a posto Grazie Grazie Buongiorno 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 Prego Accomodati Agenda possiamo togliere la manente? No D'accordo Prego Avvocato Spero che abbiano da portarmi notizie buone Spero che abbiano da portarmi notizie buone Spero che abbiano da portarmi notizie buone A presto Si Buongiorno Spero Grazie a tutti.